Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il giorno del re. Oggi Carlo III ha conquistato la corona. Commovente è il suo primo discorso che ha ricordato la madre, Queen Elizabeth. L'Inghilterra va avanti, ma non dimentica la 96enne, regina per 70 anni. E Alessandro Berardinelli, marchigiano che vive a Londra da 22 anni, ci racconta come sta affrontando questi giorni la capitale. Il popolo britannico si è risvegliato con un profondo senso di tristezza alla notizia della morte della regina Elisabetta. Sicuramente un vuoto incolmabile si andrà a formare nei cuori del popolo britannico. Ma al tempo stesso questo evento ha causato il risveglio di questo orgoglio nazionale che è sempre presente e scorre nel sangue del popolo britannico dalla storia. A Londra stessa, ad esempio, è molto visibile vedere le bandiere britanniche esposte al di fuori delle case, così come nelle stazioni, nei centri commerciali e via dicendo. E Londra risulta congestionata di auto e mezzi, tutti diretti, principalmente verso Buckingham Palace. Basti pensare, ad esempio, che uno sciopero dei treni inizialmente stabilito, previsto per giovedì 15 settembre è stato cancellato per permettere al popolo di viaggiare, di trasferirsi, viaggiare dentro Londra per far sì che questo momento di lutto nazionale venga vissuto in maniera importante da parte della popolazione indietro. Per quanto riguarda me stesso, come marchigiano stabile a Londra ormai da più di 20 anni, circa 22 anni appunto, anche io devo dire che ho vissuto questo momento con un senso di tristezza, ma soprattutto un senso, diciamo, di avvicinamento anche ulteriore nei confronti del popolo britannico per quanto riguarda questa credita che anche io stesso, diciamo, sento e provo al tempo stesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.